Il pallone, il tocco all'indietro... Chiedo scusa, riprendo la linea dallo studio perché in questo istante mi comunica che c'è una edizione straordinaria del telegiornale, diamo immediatamente la linea e poi torniamo tra poco, vediamo cosa è successo. Buonasera, edizione straordinaria per una notizia tragica che colpisce tutti noi della RAI, in particolar modo noi del Tg3, una nostra collega, una nostra amica, Ilaria Alpi, è stata uccisa pochi minuti fa, non più di un'ora fa a Mogadiscio, insieme a lei è stato ucciso un altro collega, un altro nostro collega e un altro nostro caro amico, l'operatore che la accompagnava, la notizia è arrivata, avete visto Ilaria Alpi nella immagine, la notizia è arrivata mezz'ora fa da Mogadiscio, i primi lanci di agenzia, i lanci della Reuters, i lanci della France Press, non ci sono ancora grandi particolari su questo episodio tremendo, le notizie che arrivano dicono che la nostra collega insieme al suo operatore stava attraversando su una camionetta insieme a uomini armati, naturalmente come succede per i giornalisti in questi giorni, in questi mesi a Mogadiscio, stava attraversando il nord della città quando è stata assalita da un gruppo armato, un gruppo probabilmente di banditi che volevano rubare il materiale che i nostri amici, i nostri colleghi portavano con loro, c'è stata una sparatoria, gli uomini che accompagnavano, vedete intanto ancora un'immagine di l'area Alpi, gli uomini che accompagnavano le aree Alpi e l'operatore che ancora il nome dell'operatore non viene diffuso dalle agenzie di stampa, tutto lascia pensare che possa essere un operatore che non conosciamo bene, Miran Krovatin, un uomo, un operatore della Videoest che ha lavorato spesso con noi a Sarajevo, gli uomini armati della scorta hanno risposto al fuoco e poi la macchina si è diretta verso un posto di blocco dell'ONU e lì, a meno dalle agenzie che sono arrivate, sembra che i nostri colleghi siano arrivati ormai morti, secondo le ultime notizie che arrivano, le salme, i corpi dei nostri amici sono stati trasportati su una nave nella rada di Mogadiscio, queste sono le notizie che ci sono arrivate in questi ultimi minuti, in quest'ultima mezz'ora. Io stesso avevo parlato con Ilaria un'ora e mezzo fa, non di più, al telefono satellitare, Ilaria era partita per Mogadiscio cinque giorni fa e poi era rimasta bloccata con il suo operatore in un paese a nord della Somalia e da lì aveva impiegato due giorni per arrivare nella capitale somala e stamani era finalmente arrivata a Mogadiscio. Vedete immagini di Ilaria mentre sta registrando, sempre a Mogadiscio, Ilaria era stata molte volte in Somalia da quando i caschi blu erano arrivati per la missione Resto Europa in Somalia, quindi era una presenza nostra in Somalia da molti mesi, da molto tempo. Questo doveva essere un viaggio per testimoniare la fine di questa missione delle Nazioni Unite, per testimoniare la situazione oggi a Mogadiscio e nella Somalia. Doveva essere un viaggio naturalmente rischioso come tutti i viaggi in Somalia, però niente, lasciava prevedere che in una situazione come questa potesse accadere un dramma di queste dimensioni. Dicevo, avevo parlato con lei non più di un'ora e mezzo fa al telefono satellitare, mi aveva detto che era appena arrivata a Mogadiscio, che avrebbe parlato anche con la famiglia entro pochi minuti, una famiglia che era naturalmente preoccupata per il suo lungo silenzio e si apprestava a mandarci il suo primo servizio da Mogadiscio. Ecco, questo primo servizio che doveva oggi realizzare. Un attimo. Queste sono le immagini che abbiamo potuto raccogliere, voi capirete in questi momenti di grande tensione, di grande commozione di Ilaria, le sue ultime apparizioni. Ilaria era stata non solo a Mogadiscio, ma anche a Belgrado negli ultimi giorni, anche lì per un'altra crisi drammatica. La Bosnia, l'ex Jugoslavia, era una nostra collega, era una nostra amica, una ragazza giovane che aveva voglia di lavorare, aveva vinto un concorso per entrare in Rai e che aveva passato dei mesi con noi imparando il mestiere insieme a noi, diventando una brava reporter, una brava giornalista. Queste sono quello che possiamo dirvi ora. Chiudiamo questa straordinaria, naturalmente realizzata in modo molto avventuroso, come potete vedere, dandovi di nuovo questa notizia. Una collega della Rai, del Tg3, Ilaria Alpi, l'operatore che l'accompagnava, sono stati uccisi non più di un'ora fa a Mogadiscio. La loro auto è caduta in un'imboscata di un gruppo di banditi. Tutto lascia prevedere che siano banditi che volevano rubare il materiale che loro portavano sulla macchina. C'è stato un conflitto a fuoco con gli uomini armati che accompagnavano i nostri due colleghi. I nostri due colleghi sono stati uccisi. Queste sono le notizie che ci sono arrivate finora. Concludiamo qui questa straordinaria del Tg3. Buonasera. Buonasera.